bentornati riprendiamo da dove eravamo rimasti e procediamo quindi in ordine alfabetico troviamo l'effetto sfumino ora questo effetto come vedete riproduce una sorta di effetto disegno a matita portiamo tutto a zero e cerchiamo di capire su cosa stiamo lavorando innanzitutto se portiamo tutto a zero abbiamo una consistenza che potrebbe ricordare quella della carta abbiamo un po di perdita qualitativa voluta dall'effetto in quanto riproduce una matita quindi non ha la stessa fedeltà di una fotografia vediamo innanzitutto che se andiamo ad agire sulla lunghezza del tratto andiamo a introdurre quello che sembra proprio essere il tratto di una matita quindi delle sfumature fatte a matita con il fader delle zone di luce e dell'intensità andiamo ad agire sul contrasto sulla luminosità dell'immagine adesso la zoom un po indietro così vediamo meglio e vediamo che le zone di luce agiscono sostanzialmente come un'esposizione quindi vanno da prima a rischiarare l'immagine poi andiamo verso la perdita di dettaglio infatti lo tiro un po indietro mentre con l'intensità va a lavorare un pochettino di più su quella che è la luminosità va a lavorare soprattutto su quelli che sono i bianchi dell'immagine a questo punto possiamo stabilire che ci interessa un effetto di questo tipo non troppo marcato infatti potrei tirare indietro anche un po la lunghezza del tratto e qui abbiamo ottenuto una consistenza abbastanza simile a quello che potrebbe essere un disegno a matita infatti si vedono i tratti si vede la sfumatura abbiamo ancora però quella che è una precisione fotografica nel momento in cui volessimo andare a diminuirla potremmo aumentare il tratto al massimo e andare a lavorare su zone di luce intensità per renderla un pochino meno fedele e quindi andare più verso quello che potrebbe essere veramente un risultato ottenuto a matita a meno di non essere dei disegnatori molto molto bravi ovviamente nel momento in cui vado a dirgli ok ovviamente ho ho elaborato una modifica distruttiva e quindi non posso più tornare indietro se ho salvato il documento esistono dei modi per ovviare a questo problema li ho già spiegati tante volte in video precedenti e credo che non li ripeterò più per cui se vi dovesse interessare andate a vedere i video precedenti di questa stessa serie